A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. Salve, sono Roberta Zara, coautore insieme a Michele Tetro di Due volte del terrore, la narrativa horror sul grande scarbo, pubblicato dalla casa editrice Odoia nel 2020. Un saggio che vuole essere un lungo viaggio, come dice il titolo, attraverso i due volte del terrore, intesi come quello narrativo e quello cinematografico. Un confronto, cioè, tra i film di genere horror e le opere letterarie da cui sono tratti. Con l'intento di fornire una guida pratica, veloce e di facile consultazione, che analizzasse rapporti, discrepanze, similitudini e differenze che una storia, racconto, romanzo o fumetto, originariamente concepita per la carta stampata, potesse mettere in campo durante la sua trasposizione cinematografica. Il volume prende in esame 345 film horror, dalle origini ai giorni nostri, in veloci schede organizzati in ordine alfabetico, che partono da A Venezia, un dicembre rosso shotting, di Nicolas Rugg, tratto dal racconto di Daphne du Maurier, Non voltarti, alla Zampa di scimmia, dimenticabile film tratto dal fulminante e celeberremo il racconto omonimo di Jacobs. Alla stesura delle schede hanno collaborato diversi autori ospiti, come Giuseppe Maresca, Stefano Di Marino, Corrado Altare, Roberto Chiavini e altri. Il libro presenta anche 14 box tematici, sparsi nel volume a seguito di alcune schede, che hanno delle attinenze con l'argumento trattato. Ad esempio, dopo la scheda di Psycho, secco il box dedicato ai film con i serial killer, tratti da opere letterarie ovviamente. I box rispondono anche all'esigenza di variegare l'andamento testuale, facendo da isole nel grammare delle schede presenti nel libro. Oltre i serial killer, i box trattano altri argomenti, come le case infestate, le trasposizioni da Edgar Allan Poe, quelle dall'Hovecraft, il Fanta Horror, le serie televisive, l'horror per ragazzi, le opere tratte da fumetti horror e numerosi film tratti da alcuni classici, come La Caduta della Casa degli Usher, Lo Streno Caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'opera che è il record del maggior numero di trasposizioni cinematografiche prodotte, Il Fantasma dell'opera, Dracula, Frankenstein e Giro di Vite. Nel redigere le schede si è evitato di fare un mero elenco di somiglianze e differenze tra opere letterarie e film basati su di esse, per quello sarebbero potuti bastare dei grafici, ma piuttosto abbiamo cercato di analizzare nel breve spazio di una scheda le interrelazioni tra le due forme d'arte, per poterle apprezzare al meglio entrambe. Adesso passiamo a leggere un estratto di uno dei box, quello dedicato alla trasposizione di La Caduta della Casa degli Usher, di Edgar Allan Poe. Tra i tanti racconti di Poe portati al cinema, La Caduta della Casa degli Usher è uno di quelli che ha avuto il maggior numero di adattamenti. Trattandosi al pari del cuore rilevatore, Il Gatto Nero o Il Pozzo e il Pendolo di una delle sue opere in prosa più famosa, La Cosa Non Stupisce. Pubblicato nel 1839, il racconto è divenuto uno dei classici della letteratura, non solo horror. Allegorico e retto da un articolato impianto psicologico, ha rappresentato un fuggito esempio di letteratura gotica a tema casa stregate, anche se nessun avvenimento verificato sia all'interno della dimora, è chiaramente sovranaturale ed è anzi spiegabile razionalmente. L'orrore, in Poe, arriva dall'interno. La malattia di Roderick Usher è dovuta al suo stato mentale e morale e sembra manifestarsi, oltre che fisicamente nell'uomo, nell'aspetto decadente della casa. Si aspetta di essere malato sulla base di patologie che in passata hanno afflitto la sua famiglia e, allo stesso modo, seppellisce viva la sorella Madeleine perché quella era la sua grande paura, seguendo così l'implacabile sentiero della profezia che si autoavvera. Il problema riscontrato nella maggior parte degli adattamenti cinematografici di cui ha goduto lo scrittore, e questo racconto in particolare, è stato quello dovuto alla difficoltà nel mettere in scena lo stato d'animo umano, la corruzione dello spirito o la sensualità a cui erano intrese le sue storie. Nonostante la politica di Poe abbondasse di suggestioni e atmosfere, ma scasseggiasse nell'intreccio, almeno del tipo richiesto dalle grandi produzioni hollywoodiane, il suo nome, da sempre considerato come appetibile e spendibile dal punto di vista commerciale, e spesso servito solo ad attirare spettatori e alimentare il successo al botteghino di una pellicola. Non di rado bastava la presenza di rimandi dei suoi racconti nei titoli, sporadici passaggi di gatti neri, apparizioni di spettri femminili e sepolture premature per giustificare la presenza del suo nome sui cartelloni pubblicitari di un film. Così non fu per la prima riduzione cinematografica del racconto, l'inquietante ed evocativa pellicola del 1928, uno dei massimi calavolavori dell'era del muto, la caduta della casa Asher di Jane Epstein, grande teorico del cinema e maestro dell'avanguardia francese. Più interessato all'aspetto visivo che alla narrazione, l'adattamento di Epstein è abbastanza libero e restituisce sullo schermo suggestioni non solo del racconto che dà il titolo al film, ma anche ad altri dell'autore con un tema simile. Rispetto alla fonte letteraria, quindi, la pellicola presenta alcune sostanziali variazioni, tra le quali il differente finale, che vede Salvi, Roderick e Madeleine, il diverso rapporto di parentela tra i due, marito e moglie invece che fratello e sorella, e il legame che c'è tra il ritratto che il marito sta dipingendo e Madeleine stessa, che deperisce man mano che il quadro prende vita, elemento preso dal ritratto avvale. Altre influenze arrivano dai racconti di Poe con protagoniste donne, come Ligelia e Morella. Quello che nel racconto era la voce narrante della vicenda, un amico anonimo in visa Roderick, infine, ha qui il nome di Allan, in omaggio a Poe, probabilmente. Lo spirito dello scrittore di Boston, invece, è perfettamente rispettato, e il film riesce a evocare visivamente l'interiorità dei personaggi e un senso di generale e schiacciante desolazione. Anche grazie a una messa in scena rivoluzionaria, alle suntuose e degadenti scenografie, al sapiente uso delle tecniche di ripresa, del montaggio dei trucchi cinematografici, quali sovraimpressioni, rallinte e carrellate. Un'atmosfera unica, onirica e ipnotica pervade la pellicola. Alle quali contribuì inizialmente anche Luis Buñuel, che lasciò la produzione prima della fine delle riprese per disaccordi con il regista. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico. Un deposito di storie che ci sembra importante condividere.